ben ritrovati oggi mi trovo a castions di strada e la puntata è dedicata al ristorante napoleone una bellissima location dove poter trascorrere piacevoli momenti in intimità o in eventi del tutto speciali e sono subito entrata nel posto che preferisco di più la cucina mi trovo con luca trevisan chef del ristorante napoleone di castions di strada per scoprire che cosa ci presenta oggi oggi prepariamo una lombatina di maiale della corte friulana ripiena con i principi di maggio quindi praticamente gli asparagi buonissimo allora intanto elenchiamo gli ingredienti l'abbiamo già detto quindi la lombatina di maiale quindi ci sono quante fettine qua ci sono una decina di fettine all'incirca sono sui 200 grammi 200 grammi di carne benissimo poi abbiamo gli asparagi si li ho fatti sia verdi che bianchi li ho prima precotti e rosolati con un po di cipolla abbiamo calcolato sui 60 grammi di asparagi verdi e 60 grammi di asparagi bianchi bianchi poi questo è del parmigiano si è del parmigiano abbiamo usato sulle 160 170 grammi di parmigiano e quindi avremo della salsiccia sempre della corte friulana che toglierò il budello e la sgranerò sopra la lombatina ripiena una volta riempita o arrotolata arrotoleremo a sua volta la lombatina di maiale con questa retina di maiale quindi possiamo cominciare certo allora luca si iniziamo srotolando un po di pellicola nel nostro tagliere si dopo di che con la lombatina di maiale che io ho già tagliato a fette sottili abbastanza abbastanza sottili calcolata sui sono 40 grammi più o meno a fettina e quindi si sovrappongono un po' esatto con l'aiuto di una carta forno copriamo la parte della carne e si batte per appiattire per appiattire facendo questo lavoro otterremo una base su cui poi inserire gli altri ingredienti quindi prendo il prosciutto crudo di Sauris si ecco e viene disposto per coprire tutta la superficie esatto dopodiché iniziamo a cospargere un po' di asparagi bianchi ecco in modo che poi ci sia esatto un gioco di colori anche eh sì anche con quelli verdi esattamente e poi eventualmente a seconda delle stagioni si può anche variare assolutamente sì in autunno noi lo proponiamo con i funghi in inverno lo proponiamo con il radicchio con i carciofi così toglie la si toglie il budello della salsiccia e si sgrana la carne all'interno ecco quindi si mettono tutti i pezzettini così esatto togliamo la pellicola che non ci serve più e facciamo formiamo con l'aiuto delle mani appunto un bel rotolo pressando molto bene al ripieno qua chiudiamo e dopo pressiamo verso l'esterno in modo da completare il nostro rotolo ecco quindi questo è previsto per quante persone circa? questo è previsto più o meno per 5-6 persone quindi adesso facciamo riposare una decina di minuti la nostra lonzetta dopodiché prenderemo la retina di maiale la apriremo questo naturalmente è formato da del grasso che aiuta ad ammorbidire a dare un po' di morbidezza alla carne stessa esatto e anche a tenere unito il tutto e a tenere unito il tutto quindi srotoleremo la nostra lombatina ecco qui e la riarrotoleremo con la retina di maiale quindi faremo questo procedimento ah bene così poi non servono spaghi perché fa già da esatto toglieremo la retina in eccesso e chiudiamo l'estremità della lombatina stessa ora aspettiamo un attimo prima di vedere come prosegue la ricetta Luca le carni dove le prendete? allora diciamo che Guanetto ci ha sempre fornito le carni qui al ristorante Napoleone adesso la corte friulana subentrata Guanetto ci garantisce la stessa qualità, freschezza e genuinità dei prodotti e continuiamo a parlare della corte friulana con Patrizio Zanin per conoscere l'azienda sì noi della corte friulana forniamo il ristorante Napoleone con le nostre carni di primissima qualità e non solo il Napoleone di grandissima qualità in quanto i nostri prodotti derivano da una filiera che è così composta gli animali nascono in Italia, vengono allevati in Italia e di conseguenza macellati qui a Castions quindi siamo sicuri del prodotto che proponete la corte friulana vende anche al dettaglio certo quindi dove vi si può venire a trovare? i nostri prodotti carni fresche, salumi e inoltre i prosciutti GP di Vecchia Sauris si possono trovare presso lo spazio aziendale che da pochi mesi è stato aperto di accente al macello in via? in via statale napoleonica ecco qui a Castions di strada qui a Castions di strada la vostra peculiarità qual è quindi? la nostra è quella di avere i prodotti a chilometri zero quindi macelliamo tutte le settimane o anche più volte alla settimana per fornire proprio un prodotto freschissimo Patrick è il fantastico PR che organizza qui al ristorante Napoleone di Castions di strada il Bonaparti spieghiamo bene cos'è allora il Bonaparti è un evento estivo che parte dal 16 maggio quindi essendo già partito avrete modo tutti i venerdì d'estate di venire a trovarci qui al ristorante Napoleone è un evento che si svolge dalle 8 fino alle 2 del mattino potete mangiare quello che volete al ristorante Napoleone e poi chiaramente nel giardino succede l'evento dicono più importante dell'estate friulana il Bonaparti in cui c'è molto intrattenimento, cocktail, bellissima musica un DJ importante come Daniele Crucil che suona per noi e quest'anno in più abbiamo la novità di un giardino rinnovato nell'atteggiamento del divertimento più che nella struttura quindi un sacco di divertimento per un'estate fantastica Conosciamo Daniela Iacuzzi responsabile degli eventi Chef Nappo Che cos'è Chef Nappo? Chef Nappo è un servizio esterno del ristorante Napoleone nato dal progetto di rendere la nostra ristorazione itinerante Ecco quindi si può apprezzare la cucina del ristorante Napoleone di Cassionsi Strada ma anche poter richiedere un catering che viene seguito veramente in maniera scrupolosa infatti vediamo anche l'allestimento di questa sala che è veramente elegante, particolare e raffinato tu curi questa parte e quindi diciamo come ti poni ad esempio per quanto riguarda l'organizzazione di un matrimonio? Io cerco di capire bene quello che ha piacere di avere il cliente se il cliente non ha delle idee ben chiare cerchiamo di studiare insieme il progetto perché questo è veramente un progetto perché deve essere tutto perfetto quindi cerco di capire se gli sposi hanno un filo conduttore o se hanno un colore, una preferenza e poi insieme facciamo un sopralluogo nella location per rendere il tutto molto piacevole molto ben organizzato per il giorno dell'evento Ogni evento è a sé quindi immagino che ci sia una diversificazione anche nell'organizzarlo, nel progettarlo Sì, per me ogni evento è una sfida perché mi piace fare un evento diverso dall'altro perché deve essere una cosa personale e unica esattamente quindi cerco anche di cogliere la moda del momento quest'anno è il momento del vintage e quindi nei miei matrimoni ci sarà parecchio vintage Siamo rientrati in cucina per vedere come prosegue la ricetta la nostra lombattina ripiena agli asparagi allora adesso è arrotolata nella retina di maiale a questo punto a questo punto la passiamo in padella a rosolare con un po' di erbe aromatiche come timo e maggiorana dopo aver rosolato la carne la inseriamo in forno per un quarto d'ora Trascorso il tempo necessario abbiamo tolto la lombattina dal forno Sì, esatto e adesso passiamo all'impiattamento Bene, vediamolo Io ho preparato un sformatino delle patate schiacciate con del basilico che posizionerò al centro del piatto Ah ecco, con il porzionatore per il gelato per intenderci Con il porzionatore del gelato giusto, esatto Dopodiché taglierò a fette la nostra lombattina Uh che bello, all'interno si vede I colori degli asparagi Eh sì Ok, quindi posizioniamo la nostra lombattina Ecco intorno alle patate Esatto E diamo l'ultimo tocco con delle cialde di frico che ci aiutano a dare un po' di croccantezza Mmm ma che buono Un pomodorino fritto per dare un tocco di colore E alla fine un po' di salsa Per completare il piatto Uh, allora A te l'onore Oh, bellissimo Conosciamo oggi Michele, titolare dell'azienda Polencic di Cormons Che per il piatto presentato abbina? Per questo piatto abbiamo pensato di abbinare il nostro Friulano Fisk 2011 Che è un vino pensato per essere un bianco di struttura, importante Viene ottenuto da una bassa produzione per ceppo Fermenta in botti di rovere grande E fa 12 mesi di affinamento in bottiglia Prima di essere proposto al consumatore L'azienda punta soprattutto sui vini bianchi Certo, la nostra azienda è sita a Plessiva In comune di Cormons, nel cuore del Collio Quindi in un territorio evocato per i vitigni bianchi E la nostra azienda produce circa il 90% di vitigni a bacca bianca Le varietà che coltiviamo sono le varietà tipiche del nostro territorio Quindi il Friulano, la Ribolla Gialla Pino Grigio, Sauvignon, Chardonnay, Pino Bianco Come vitigni internazionali E a questi si affianca anche la produzione di vitigni a bacca rossa Che è numericamente inferiore Rappresentata da Merlot, Cabernet, Franc, Refosco e Pino Nero Un motivo per scegliere il vostro vino a tavola o per venirvi a trovare? Ma per venirci a trovare, per visitare anche i nostri territori Per conoscere la mia famiglia, mia sorella Elisabetta Mio fratello Alex che lavorano con me in azienda I vini perché noi cerchiamo di fare dei vini che siano espressioni del territorio Quindi con un carattere varietale spiccato Privileggiando soprattutto equilibrio, pulizia ed eleganza Quindi dei vini franchi, puliti, espressivi del territorio E ritrovo Luca Trevisan in sala La cucina che hai a disposizione è veramente molto ampia Come tutti gli spazi del ristorante Che tipo di proposta avete quindi? Ma diciamo che la proposta è molto varia Perché si spazia da menù a prezzi fissi infrasettimanali Cene di lavoro e famiglie Il menù comprendono, variano anche in questo caso Con pizze grigliate e altre tipologie di menù Quali anche il menù degustazione Le salette più piccole come vengono utilizzate? Le salette più piccole le utilizziamo come piccole cerimonie Magari un po' più intime O come colazioni di lavoro o pranzi appunto di lavoro E siamo giunti in conclusione di questa puntata Dedicata al ristorante Napoleone di Castions di strada Io ringrazio lo chef Luca Trevisan Per la presentazione della sua ottima ricetta La signora Daniela Iacuzzi Responsabile Eventi Chef Nappo Patrick per il Buonaparti del venerdì Per la corte friulana e vecchia Sauris Patrizio Zanin E per l'abbinamento al vino Michele Polencic Se volete rivedere questa puntata Vi potrete collegare la settimana prossima Lunedì alle ore 12 O venerdì alle 13.45 E ogni giorno su Radio Fantasy Potrete seguire Bettina in Contra Alle 12.30 E tutti insieme Un buon brindisi Cin cin Grazie a tutti